Arrivano altre dure accuse da parte del consigliere d'opposizione Luigi Maurano nei confronti dell'amministrazione comunale di Castellabate. Questa volta sotto accusa sono i dati della raccolta differenziata annunciati negli scorsi giorni dal comune che per Maurano sono falsificati. Per dare una corretta informazione ai cittadini è giusto spiegare come si calcola la percentuale di raccolta differenziata dei comuni della regione Campania. I gestori del servizio di raccolta sono tenuti alla compilazione di schede mensili. Poi entro il 30 aprile di ogni anno i dati inerenti alla produzione di rifiuti dell'anno precedente devono essere inviati. A questo punto l'osservatorio ambientale della regione Campania provvede a monitorare, elaborare e verificare la certezza dei dati inviati dai comuni o dai gestori. Solo al fine di questo controllo i dati vengono validati e diventano quindi ufficiali. L'ultimo dato ufficiale della percentuale di raccolta differenziata del comune di Castellabate è quello inerente l'anno 2018. Sapete quant'è la percentuale? 52,61% dichiara il consigliere d'opposizione Maurano. E allora è davvero surreale assistere ad una conferenza stampa e a leggere titoli esaltanti ed esultanti su dati non ufficiali. Questa è vera e propria disinformazione politica. Il consigliere di poi continua rincarando la dose. Sarà il primo ad essere felice se questo dato fosse reale, soprattutto certificato dalla regione Campania. Ma così non è. Questi sono i dati della Sarim. In pratica è la stessa ditta che ha vinto l'appalto e che riceve 5 milioni di euro dal comune di Castellabate a dire che la raccolta differenziata si attesta all'80%. Maurano conclude attaccando la Sarim accusandola di non aver realizzato le migliori proposte in sede di gara d'appalto ed intascare tutti i ricavi annui della raccolta differenziata. A fronte di tutto questo una domanda dovrebbe sorgere spontanea. Quali sono i benefici per i cittadini di Castellabate?